E quindi una vita scandita dalle stagioni, scandita dal modo di essere e di comportarsi, di rapportarsi alla natura, è una cosa estremamente importante, quando è riraccolto, quando non è riraccolto, se la vendegna era andata bene, se la raccolta dell'oliva era andata anche peggio, o dell'anno precedente, o di più l'aveva migliorata, e quindi ecco, cose che attengono, ma soprattutto, soprattutto c'è la caratterizzazione dei personaggi.